La Prometeo essere a Rieti sbanca fondi per 77 a 111 nell'ultima giornata del girone di andata. La vittoria le vale i due punti che le consentono di aggiudicarsi il secondo posto solitario della classifica, staccando Senigallia e Montegranaro. A rompere il ghiaccio è un canestro di rosignoli a cui risponde Liliu e le due formazioni procedono in sostanziale equilibrio per tutta la prima frazione che termina 19 a 18. Siamo partiti un po' sotto ritmo, dichiara coach Nunzi, perché venivamo da un periodo lungo di non gioco. Pian piano abbiamo preso le misure per gestire al meglio la situazione e siamo andati al meglio. Nel terzo quarto gli avversari hanno mollato e la partita è finita con un po' di anticipo. Adesso andiamo a Senigallia a cercare di riscattare la prima partita di campionato che ci ha lasciato parecchio amaro in bocca. La gara sarà importante anche per la classifica e darà alcune indicazioni sui piazzamenti futuri. Giochiamo con una squadra di cui conosciamo bene le caratteristiche e sappiamo quanto sia ostica per noi, ma cercheremo di migliorare le situazioni che ci hanno penalizzato nella prima gara dello scorso ottobre.